Una platea numerosa e partecipe, composta anche dai tanti anziani fossatani intervistati, ha fatto da cornice lunedì 5 luglio presso il Circolo Acli di Osteria del Gatto, Fossato di Vico. Alla presentazione del libro I nonni si raccontano, edito dal Circolo Acli Ora et Labora, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Ad aprire l'incontro i saluti del presidente del Circolo Fossatano, professor Sante Pirrami. Il pomeriggio è proseguito con i saluti istituzionali del sindaco di Fossato di Vico, Monia Ferracchiato. Il dottor Lucio Lupini è intervenuto in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia ed in sostituzione della presidente Cristina Colaiacovo. William Stacchiotti, autore e curatore del libro, dopo aver ringraziato i relatori presenti e tutti gli intervenuti, veri protagonisti della giornata, ha evidenziato i passaggi che hanno portato alla pubblicazione. A chiudere la giornata, l'intervento dell'ex prorettore dell'Università degli Studi di Perugia, Antonio Pieretti.